Detector Valerio. Ciao a tutti, Detector Valerio. Guardate qui che vecchia ascia. Manco taglia più. Vecchio quanto il cucco. Muo' gli da una bella filata. Luce rotta. Affiliamo qui mezzo. Accendiamo. Questa non si stacca, quindi... Una bella filata. Questa non si stacca. Questa non si stacca. Accendiamo. Vediamo un po'. Ecco qua. Vediamo se adesso taglia. De... Lo taglia. Un po' meglio diciamo. Prima non tagliamo un cazzo. Ok. spero che questo piccolo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace